Bene bene, andiamo a vedere subito cosa abbiamo dentro questo sacchettino. Una novità assoluta. Freedom Pro, il nostro dispositivo che metterà d'accordo tutti, compatibile con Apple Home, con Alexa e con Google. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. E' un modulo a quattro canali per comandare le luci, con massimo 5A per canale. Bene bene, si può montare su barra DIN. Abbiamo la copertura per i morsetti, abbiamo i morsetti L e N, alimentazione 230V e può essere alimentato da 110V a 240V. Abbiamo 01, 02, 03 e 04 che sono le quattro uscite per i comandi delle quattro lampadine e poi abbiamo S1, S2, S3 e S4 che sono per il collegamento degli interruttori. SC è il comune degli ingressi S. Possiamo mandarli anche una fase sull'ingresso S. Adesso proviamo a collegarlo e vediamo come si comporta. Qui ho simulato un impianto dove abbiamo due interruttori. Un interruttore ci accende la prima lampada, la seconda lampada. Poi abbiamo due pulsanti che accendono altre due lampadine con il relais 1 e 2. Adesso proviamo a integrare questo dispositivo e rendere domotiche tutte e quattro le lampadine. Vediamo come fare. Un'altra cosa che non vi faccio vedere nella confezione. Abbiamo anche l'attrezzo per eseguire il reset oltre che le istruzioni con gli schemi per il collegamento. Ma adesso andiamo subito a mettere questo dispositivo. Prima di tutto bisogna togliere sempre corrente. Quindi una volta tolta corrente prendiamo il filo che va sull'interruttore della lampadina 1 e lo andiamo attaccare sull'uscita 01 del nostro dispositivo Freedom Pro LIGLE. Poi andiamo a prendere la lampadina 2 che è questo filo che attualmente è collegato sull'interruttore e lo colleghiamo sull'uscita 02. Poi prendiamo la terza lampadina che è questo filo collegato su questo relè. quindi lo stacchiamo dal relè e lo andiamo a collegare sull'uscita 03 del nostro dispositivo per le luci. Infine la quarta lampadina che è collegata su quest'altro relè e lo andiamo a collegare sull'uscita 04 del nostro dispositivo Freedom Pro per le luci. Bene le uscite le abbiamo collegate. Adesso dobbiamo collegare i quattro ingressi. Quindi S1 il primo interruttore colleghiamo l'interruttore sull'ingresso S1. interruttore l'altro capo ce l'abbiamo collegato direttamente alla fase secondo interruttore. per il comando della seconda luce lo andiamo a collegare sull'ingresso S2. invece i due pulsanti questo che faceva la terza lampadina lo togliamo qua dal relè e lo andiamo a collegare sull'ingresso S3. ovviamente l'altro pulsante che andava sull'altro relè lo andiamo a collegare sull'ingresso S4. Quindi abbiamo questi due relè che non sono più utilizzati. Abbiamo l'alimentazione che ci arriva sul relè, un neutro fisso sulla bobina e una fase sul contatto. Quindi sfruttiamo questi due fili di alimentazione. La fase la andiamo a collegare sul morsetto L e il neutro lo andiamo a collegare sul morsetto N di alimentazione. Quest'altro relè si può eliminare. Quindi facciamo toglierlo così facciamo anche pulizia. Adesso non ci resta che alimentare il tutto e fare una prova. Come prima cosa vado nell'app store, in questo caso utilizzo iPhone, e vado a cercare l'app Freedom Pro. Eccola qua. L'avevo già scaricata. Quindi apri. Inizia. Continua. Abilita notifiche. Consenti. Consenti la relocalizzazione. Continua. Consenti quando utilizzi l'app. Accedi. Continua. Qua avete la possibilità di scegliere se continuare con Google, con Facebook o con Apple. Io in questo caso vado con Apple. Ok. Quindi mi chiede di effettuare la registrazione e creare l'account Freedom Pro. Nessun modulo associato. Quindi se andiamo su più, aggiungi modulo, aggiungi stanza. Iniziamo ad aggiungere una stanza. Chiamiamola Giuseppe Amico. Mettiamo giusto un'icona per mettere qualcosa. Ok. Va bene. Salva. Abbiamo creato la nostra prima stanza. Alimentiamo il nostro modulo. Quindi do corrente, si accende il LED e se io provo ad accendere le luci, le luci funzionano. Ovviamente queste qua con il pulsante. Quando lascio il pulsante la luce si spegne perché dovremmo andare comunque a programmare il nostro modulo. Proviamo ad andare su più, aggiungi modulo, inizia l'abbinamento. Premi velocemente per 5 volte con uno strumento appuntito il tasto del setup sul modulo. Se la procedura è andata a buon fine il LED lampeggia di blu. Quindi prendiamo lo strumento appuntito che Freedom Pro dà in dotazione. Quindi premi velocemente per 5 volte con uno strumento appuntito il tasto del setup sul modulo. Allora qua bisogna cercare di individuare il pulsante perché altrimenti si va sotto e bisogna trovare il punto dove c'è il pulsante. Eccolo qua. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lampeggia di blu. Quindi lui adesso si sta facendo vedere. Quindi andiamo su inizia. Freedom Pro desidera accedere alla rete wifi Freedom Pro che genera questo. Quindi accedi. Ok. Andiamo a mettergli la rete. Inseriamo la password. Ok. Continua. Quindi andiamo su più. Moduli rilevati 1. Inserisci il codice scritto sull'etichetta del modulo. Quindi inseriamo il numero. Allora se andiamo su più moduli rilevati abbiamo questo dispositivo. Vuoi aggiungere questo modulo a questa casa? Aggiungi. Comunque ho già il led blu che è acceso fisso e il led blu acceso fisso indica che il modulo è pronto. Ok. Seriale. Modello. Ok. Chiudi. Abbiamo canale 1. Canale 1. Canale 3. Canale 4. Canale 1. Consumo. Impostazioni. Interruttore. Pulsante. Sensore. Sensore invertito. Abilita accessorio. Abilita abbinamento da pulsante. Stanza. Giuseppe Amico. Ok. Canale 2. Impostazioni. Interruttore. Stanza. Selezioniamo. Giuseppe Amico. Ok. Poi abbiamo canale 3. Impostazioni. E un pulsante. Selezioniamo sempre la stanza. Giuseppe Amico. Fine. Ok. Ci rimane 4. Impostazioni. E un pulsante. Selezioniamo la stanza. Giuseppe Amico. Fine. Ok. Quindi accendo. questo. Spengo. La stessa cosa con questo. E questi con gli interruttori. E questa parte abbiamo visto come gestirla. E se volessimo aggiungerlo a casa? Apriamo l'applicazione casa. Andiamo su più. Aggiungi accessorio. Scansione il codice. Ok. Lampadina. Aggiungi ad Apple Home. Allora. Andiamo a metterla in Crea nuova stanza. Continua. Chiamiamola test. Continua. Ok. Continua. Il dispositivo è quello. Va bene. Canale 1. Canale 2. Canale 3. Canale 4. Lasciamo questi nomi. No. Non voglio niente con l'automazione. Adesso. Ok. Quindi. Se andiamo nella nostra stanza. Che abbiamo appena creato. e si chiama test. Abbiamo le nostre quattro lampadine. Però li devo cambiare il nome. Impostazioni. Accessori 4. Lampada 1. Fine. Abbiamo i nostri quattro dispositivi. Lampada 1. Lampada 2. Lampada 3. Lampada 4. E ovviamente. Hey Siri. Spegni lampada 3. Ok. L'accessorio lampada 3 è spento. Hey Siri. Accendi lampada 4. Hey Siri. Spegni lampada 4. Prima devi sbloccare il computer. E sblocchiamo il computer. Ok. L'accessorio lampada 4 è spento. Qua rispondono da tutte le parti. Va bene. Ok. Questa è la configurazione con Apple. Adesso andiamo in Alec. Quindi apriamo l'applicazione Alec. Andiamo su le skill. Skill e giochi. Quindi cerca. l'applicazione con Apple. Ok. Abilita l'uso. Continuo con Apple. Ho eseguito la registrazione con Apple. Quindi continuo. Ok. Mi ha riconosciuto. Ok. Scopri dispositivi. Oltretutto l'azienda Freedom Pro ha realizzato due dispositivi che sono una cosa fenomenale secondo me. Avete a casa un impianto My Home della BT Cino o un sistema KNX e volete avere tutti i dispositivi su Apple, Google o Alexa? Ci sono due dispositivi. Uno per il sistema My Home della BT Cino e interfaccia tutta la domotica verso i vari assistenti vocali. La stessa cosa per il sistema KNX. E anche qua in automatico mi trovo i dispositivi. Canale 2. Scendi. Spegni. Quindi poi qua gli andate a cambiare i nomi. Mettete quello che volete. La stessa cosa lo si può fare con l'assistente Google. Ma avete Home Assistant a casa? Lo potete integrare direttamente in Home Assistant. Nessun problema. Ve l'ho detto. Freedom Pro accontenta tutti. Andiamo su Impostazioni, Dispositivi e Servizi. Aggiungi Integrazione e cerchiamo Freedom Pro. Adesso ci chiede la chiave API. La chiave API la possiamo generare direttamente nell'applicazione di Freedom Pro. Quindi una volta ottenuta la chiave API l'andiamo a inserire. Una volta inviata la chiave API compare questa finestra. Clicchiamo su Finito e ci ritroviamo l'integrazione Freedom Pro con i nostri quattro dispositivi. Ciao e al prossimo video! Ciao!